Comunque, guarda, scusa, io ti ho ascoltato, fatemi finire la visione. C'è un condono dentro questo decreto fiscale, vero e proprio. C'è, quindi era iniziato, il governo del cambiamento inizia con un condono edilizio su Ischia e il Centro Italia, un condono fiscale, poi c'è anche il condono per le banche, perché c'è una norma fantastica sui cosiddetti truffati alle banche, che darebbe ai poveri truffati... Le banche sono quelli che hanno subito le truffe per Montepaschi del Siena, Banca Etruria, ci sono. Ci sono le banche venete o no? Arriviamo al dunque, ai truffati alle banche venete. Non si capisce così, scusate. Perché loro fanno sempre i furbi parlando di banche etruria. Cosa succede sui truffati alle banche? Non parlano mai di Banca Popola e di Vicenza e di Veneto Banca. Usciamo delle accuse reciproche. Cosa succede sui truffati alle banche? Succede che gli viene dato un 30% di quello che hanno perso, quello che risulta da questa norma, e sostanzialmente dicono che per il restante la banca è libera, cioè non sarà più responsabile di nulla, quindi un bel condono per le banche, se non cambieranno la norma. Allora, su questa cosa qua, ci sono tutte le associazioni che sono arrabbiatissime, ma governate voi, non è il PD. No, no, ma io voglio... Ora dovete entrare nell'ottica che dovete rispondere ai vostri elettori di quello che fate. Siccome ai truffati delle banche gli avete raccontato che avreste dato tutto a tutti, oggi vi trovate nella posizione di contraddirvi sulle vostre promesse elettorali. Posso rispondere nel merito. Allora, questo è una prima trance. Allora, Alberto, facciamo prima, risponde, poi arrivo da Arditi e da De Mangione. Allora, in primo luogo, allora, la genesi della truffa delle banche sappiamo benissimo da dove viene. Primo, il governo del PD ha messo 50 milioni di euro. 100 milioni che avete tenuto qua di... Noi abbiamo messo un miliardo e mezzo, cioè ma di che cosa stiamo ragionando, di che cosa stiamo ragionando, di nulla. L'accusa è un'altra, l'accusa che ha fatto lavorare. È vero o no? Allora, attenzione, si è già detto, ma voi non gli davate niente, zero. Ma non è vero! Non, infatti, posso dirle, scusate, c'è un punto di 100 milioni, sono già stati ristorati, ma infatti posso dire... Ma è inutile che metti un miliardo e mezzo, se non gli evitai, infatti ora sono i lamorani, il problema sono i truffati delle banche, non è cosa ha fatto il PD, il problema è... Cosa diciamo a quelle persone in cui in campagna elettorale abbiamo detto che ridiamo tutto? In questo momento c'è un primo intervento forte di un miliardo e mezzo. Sì, ma il 30% è vero o no? Che rispetto alla situazione precedente è un miliardo e quindici volte più di quello che dava il governo. Ho capito, ma non siamo per effetti, ma siamo meglio del PD, questa è la ciccia. Però ricordi sempre, la banche elettorale è tutto.